I contrari guidati dalla Spagna, di Sanchez, ma anche dalla scettica Grecia, che pure ha questo problema molto forte, e poi ci sono i neutrali guidati dai grandi paesi, Francia e Germania, che sono, ce lo diceva bene Carla Rumor, scettici. Sbaglio, è così? No, non sbagli, però vorrei precisare che Spagna e Grecia sono quelli che hanno il problema più vicino, ancora più vicino che l'Italia, e capiscono che questa operazione è un'operazione di propaganda sostanzialmente, di propaganda discutibile ed è stata discussa, ma non tornerò su questo, di propaganda, perché 16 migranti abbiamo mandato con la nave in... 12 sono ancora lì. 12 sono ancora lì, capisci? Cioè è pura e assoluta propaganda. Il problema dell'immigrazione è effettivamente un grossissimo problema, perché con le guerre, non mi ricordo chi poco fa, credo Specchia, ricordavo che ce ne sono 40 nel mondo, è evidente che aumenta la pressione nei confronti dei nostri paesi e l'Italia è uno dei paesi di frontiera, anche se è un po' meno della Spagna, che ha un'enclava addirittura in Africa, come tu sai, e della Grecia, che è accanto al Medio Oriente, e non si può risolvere senza regolare i flussi migratori, questo è il punto fondamentale. Ma regolare i flussi migratori significa, secondo me, fare due cose anche. La prima è quella di non clandestinizzare gli irregolari. Noi, ogni migrante irregolare che arriva in Italia, le leggi e il governo spingono a farne un clandestino. E questo produce due distorsioni terribili, perché come clandestino diventa una riserva di lavoro schiavista sostanzialmente, e viene utilizzato, perché noi clandestini li utilizziamo per fare dei lavori tremendi, sottopagati è un modo di dire, pagati da schiavi. E in secondo luogo diventa una riserva di elettorato possibile. E quindi? Soluzioni possibili però? Noi dovremmo provare a capire quali dei migranti che arrivano al nostro paese vogliono veramente integrarsi, e se è possibile favorire, e gli altri mandarli via nei paesi di origine. Guarda, noi siamo un paese di anziani, siamo un paese dove tutto è tracciato. Non è impossibile, è impossibile perché non conviene. Francesco Specchia, ma ce lo diceva adesso proprio Corradino Mineo, è un'operazione, come dire, di immagine, di propaganda più che di realtà, perché poi ha i due ottobre...